Scossi, spaventati, increduli, è lo stato d'animo degli operatori che nella notte fra lunedì e martedì hanno vissuto sulla loro pelle l'episodio di violenza in pronto soccorso che ha visto un uomo di 31 anni devastare gli spazi del PS, aggredire e minacciare con un coltello i presenti. Ecco ciò che è accaduto nel racconto del medico responsabile presente quella notte dopo che l'uomo era stato portato in PS dalle forze dell'ordine in tarda mattinata, valutato dallo psichiatra e trattenuto fino alle 17 perché è ubriaco, e di nuovo intorno alle 18, accompagnato dalla polizia perché è violento e aggressivo, e nuovamente valutato dallo psichiatra. Va ben distinto il discorso del comportamento aggressivo e antisociale dalla patologia psichiatrica. I psichiatri gestiscono la patologia psichiatrica, mentre i comportamenti antisociali e aggressivi che possono anche ricadere sulla patologia psichiatrica sono anche comportamenti che di per sé possono riguardare situazioni come l'abuso di sostanze, piuttosto che la demenza, piuttosto che ma non sono patologie psichiatriche, quindi non hanno bisogno di un trattamento psichiatrico o ricoveri in psichiatria. Il soggetto, che non era un paziente, che ancora molto aggressivo, non è stato trattenuto dalle forze dell'ordine, è stato comunque riaccompagnato alla sua abitazione. Dopo una cinquantina di minuti si è ripresentato in pronto soccorso, entrando proprio come una furia, successivamente ha tirato fuori un coltello. Col cestino ha sfondato subito le vetrate del triage che danno sulla sala d'attesa del pronto soccorso e vi lascio soltanto immaginare lo stato di agitazione e di paura che ha colto gli infermieri, che sono l'infermiera poi, che era il triage. Ancora veramente sotto shock per questo. Dopodiché ha cominciato sempre urlando, minacciando verbalmente, aggredendo verbalmente, ma anche aggredendo con quest'arma i presenti, tra cui il sottoscritto. Abbiamo subito allertato le forze dell'ordine, le abbiamo richiamate più volte, anche perché la situazione era veramente molto critica. Il tipo molto aggressivo ha minacciato, mi ha tirato addosso un attaccapanni, le panchine, quindi continuava a venire addosso con il coltello. Però poi ho usato il suo cestino per tenerlo, quello con cui ha rotti le vetrate, come deterrente per tenerlo in un angolo. E circa dopo 15 minuti sono arrivate le forze dell'ordine, che a quel punto sono intervenute immediatamente e hanno intimato di lasciare a terra il coltello e l'hanno preso sotto custodia. Per noi è stata una situazione assolutamente complessa e allo stesso tempo che ha sconvolto tutto il personale, perché considerate che la maggior parte del personale era femminile, c'era soltanto un infermiere. E in questa situazione, io ero lì perché stavo facendo attività diverse, quindi mi sono trovato in questa situazione, dovevo sistemare la procedura per i colpi di calore. E quindi mi sono trovato coinvolto, per fortuna in questa situazione, però è stata estremamente violenta, estremamente complessa per quanto riguarda la nostra gestione. Purtroppo non lo sono, anche perché questo in meno di due mesi è stato il secondo episodio, con questa gravità. Gli operatori sono molto spaventati e si fanno domande sul fatto che sia opportuno che corrono questo tipo di rischi. La cosa che adesso, in questo momento, sta disturbando di più, sempre nel rispetto di quelle che sono professionalità, abbiamo notato che in queste, le prime comunicazioni, c'è stata una notevole disinformazione. Questo ha creato un movimento di opinione pubblica che si riflette poi sullo stato dell'anno degli operatori, che è assolutamente inadatto, impreciso e soprattutto va contro quelli che sono sia i fatti avvenuti, sia quello che doveva essere il supporto a chi questo lavoro lo fa, per i cittadini, che oltretutto sono coinvolti in questi eventi direttamente, non soltanto gli operatori vengono coinvolti. Quindi questa cosa è molto importante, secondo me è molto importante che ci sia una precisione nell'informazione che viene data, perché deve essere un'informazione sia puntuale che esatta, altrimenti si rischia di correre in un populismo che è assolutamente deleterio per quello che è la nostra attività e il nostro stato d'animo. A chiusura del primo semestre 2023, la Banca Popolare di Sondrio rivolge ai propri soci e agli amici la consuetta lettera di metà anno. Nel ricordare i risultati di bilancio approvati dall'Assemblea in aprile, con un utile netto di impresa del 2022, pare a 212,9 milioni di euro, e del primo trimestre 2023, con l'elevato utile netto a livello di gruppo, pare a 94,4 milioni, il direttore generale Mario Alberto Pederanzini e il presidente Francesco Venosta scrivono che la nostra banca ha a cuore le necessità delle persone, delle famiglie, del variegato mondo imprenditoriale, manifestando loro vicinanza, a esempio andando incontro, caso per caso, a coloro che si trovano in difficoltà nell'onorare le rate del mutuo. Spazio anche all'attività culturale che a fianco del notiziario vede proprio in questi mesi estivi l'impegno insieme ad altri enti per la milanesiana di Elisabetta Sgarbi, inaugurata a Sondrio il primo giugno e in corso fino al 27 luglio a Bormio. Esce venerdì 21 luglio il libro Giuliano Zuccoli, l'energia che ci manca. Presentato a Morbegno, dove Zuccoli aveva radici, è dedicato alla vita professionale e non solo dell'ingegnere che fu protagonista della trasformazione dell'industria energetica e del mondo delle utilities. Zuccoli è riuscito a fare l'energia concretamente su un disegno e su una idea del ruolo dell'energia nel nostro mondo contemporaneo che lui ha costruito pezzo su pezzo. Lui ha fatto in meno di dieci anni il secondo gruppo nazionale dell'energia italiana. Per me è stato un amico immenso prima che il mio presidente. Zuccoli è una persona che va riscoperta e posta al centro delle risposte che i tempi che viviamo oggi ci pongono. C'è un'intuizione sul mondo dell'energia, sulle prospettive future? Beh, soprattutto la sua concezione di energia sostenibile. Lui, questo l'ho scritto anche nel libro e lo troverete, è stato il primo ad avere il coraggio di dire l'unica energia sostenibile è il nucleare, il nucleare pulito, perché tutte le altre hanno delle ricadute oppure lui era invaguito dell'idroelettrico, lui era un genio dell'energia idroelettrica, però l'energia idroelettrica non è sufficiente e non ci basta, diceva. E lui vedeva il nucleare, non altre cose, altre invenzioni, perché anche il fotovoltaico, lo diceva, ripeto, vent'anni fa, il fotovoltaico finiremo con dipendere invece che dalla Russia per il gas, dalla Cina per tutte le attrezzature che occorrono per fare un campo fotovoltaico. L'ingegnere Zuccoli è stato presidente non solo di 2A, ma anche di AM, ma anche di Edison. Ricordarlo e ricordare l'importanza della sua presenza e le trasformazioni che lui ha fatto e ha voluto e che oggi si rendono sempre più evidenti, perché le sue parole in molti discorsi fatti allora oggi si sono tradotte in realtà come esempio il fatto che l'energia prima o poi avrebbe causato anche qualche guerra. C'è un aspetto umano che ricorda in particolare di Giuliano Zuccoli, avendoci anche lavorato a fianco. Beh, Giuliano Zuccoli è una persona fantastica, oltre ad essere un grandissimo ingegnere, era una persona che aveva un grande, grande, grande rapporto con le persone. Era sempre pronto a parlare, era sempre pronto a trovare qualcosa di importante. Era legato molto al sociale e soprattutto era legato alla famiglia, alla sua famiglia. Credo sia stato uno dei perni più importanti della sua vita. Prosegue la campagna acquisti della nuova Sondrio Calcio e ora il direttore sportivo Cristian Salvadori regala tre nuovi giocatori a mister Fabio Fraschetti. Il primo è Modulamin Badie, centrocampista gambiano classe 97, mezzala mancina dotata di un'ottima qualità tecnica unita ad una buona prestanza fisica. Il secondo arrivo è Samuele Mento, giovane esterno offensivo del 2003, cresciuto nel Monza. Il terzo acquisto è Eduardo Boschetti, classe 96, difensore centrale brasiliano di passaporto italiano, che si può adattare anche a fare il terzino. Badie lo seguo dai tempi in cui fu acquistato dall'Atalanta e lo inseguo da anni, afferma Salvadori. Spesso in passato avevo tentato il colpaccio senza mai riuscire a concretizzare. Tra le sue esperienze nei professionisti può vantare piazze come Modena, Catanzaro, Rimini. È un ragazzo professionale e professionista nell'approccio del calcio. Sono sicuro che questa sarà la piazza ideale e l'ambiente ideale per la sua definitiva consagrazione. Mento è dotato di spunti interessanti grazie a una padronanza tecnica di buonissimo livello, prosegue il DS. È dinamico veloce e può agire indifferentemente sugli esterni a destra o a sinistra. I suoi strappi possono essere determinanti in qualsiasi momento. Samuele è un ragazzo ambizioso che ha deciso di sposare il nostro progetto altrettanto ambizioso. Sono convinto che troverà la sua vera dimensione in questa stagione. Anche Boschetti è seguito da tempo da Salvadori. Mister Alberto Cavasin mi parlò di lui, spiega, in termini entusiastici da quel momento è entrato nei miei radar. Difensore tosto fisicamente concreto e implacabile in marcatura, molto abile nell'uno contro uno, completo tatticamente. Viene dal Soriano, dall'eccellenza calabrese. Anche lui rientra nei canoni che io reputo fondamentali per far parte di un gruppo vincente. Serietà, ambizione, attitudine e professionalità. A presto! Anche a tutti! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.